Presentata a Taranto la sessantesima edizione del campionato italiano di traina d'altura. La manifestazione che si terrà nelle acque dello Ionio adiacenti il golfo di Taranto è stata organizzata dalla SD Chaira di Fishing Club per conto della Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacque e Nuoto Pinnato. Quest'anno vogliamo fare qualcosa di meraviglioso anche perché siamo in tanti a portare avanti l'altura. Lo specchio d'acqua del golfo di Taranto attistante il porto turistico Molo Santeligio accoglierà più di 30 equipaggi formati da tre unità provenienti da ogni parte d'Italia che si contenderanno il titolo di campione italiano. La manifestazione ha particolarmente a cuore la tutela del mare e dell'ambiente e da qui l'utilizzo del termine pesca green. Questa manifestazione si basa su una logica prettamente ecologica. Basti pensare che oltre il rispetto per il mare c'è il rispetto per quella che è la pesca perché i pesci che vengono pescati vengono immessi direttamente in acqua quindi sono vivi, quindi è una gara prettamente ecologica. Durante la presentazione è stato inoltre sottoscritto un protocollo d'intesa tra FIPAS, Comune e Provincia di Taranto per realizzare un distretto collegato a sport minori per promuovere le economie sostenibili territoriali. Questo protocollo d'intesa che mira a realizzare dei distretti turistici sportivi che sono i due driver sui quali abbiamo puntato per la rinascita e il rilancio del nostro territorio. Saranno dei luoghi, delle strutture che creeranno uno sviluppo del territorio dando un grande spazio a tutte le associazioni che praticano sia in modo agonistico che non agonistico gli sport minori.